Berford da tre in transizione, meno undici, ultimo tiro del quarto presumibilmente a disposizione la squadra di Galbiati, TJ Williams lascia correla il cronometro, tiene il cambio difensivo, Berford inseguito da Killo, lo disorienta, tripla, TJ Williams sul blocco di Mian, Holmes ha spazio ma va corto, rimbalzo offensivo di Berford che non è esattamente lì. Adesso la Manoni sfida molto, Treviso al tiro dalla lunga, è chiaro che Fissi, Treviso continua a trovare Ferri, Allora la sfida Paghekwome, Berford di nuovo inarrestabile!